Si discuterà nella Camera di Consiglio del 14 settembre prossimo il ricorso proposto dal Comune di Pace del Mela contro l'ex Consorzio Asi di Messina. Così hanno deliberato i giudici della terza sezione del Tar di Catania. Il Comune, rappresentato dall'Avvocato Giovanni Gulino, è opposto al Consorzio Asi di Messina rappresentato dall'Avvocato Riccardo Rotigliano. È stato chiesto l'annullamento della nota dell'8 giugno scorso, con cui il commissario liquidatore del Consorzio ha ritenuto di convocare il Comune di Pace del Mela per il 23 giugno successivo per gli adempimenti relativi al trasferimento in concessione d'uso al Comune di Pace del Mela delle reti idriche, fognari e di acquedotto industriale realizzate dal Consorzio Asi di Messina nell'agglomerato industriale di Milazzo Giammoro. Altri motivi del ricorso riguardano l'annullamento, previa sospensiva, del verbale del 23 giugno, con cui il commissario ha ritenuto di provvedere al trasferimento in concessione d'uso al Comune di Pace del Mela delle reti idriche, fognari ed acquedotto industriale realizzati dal Consorzio Asi di Messina nell'agglomerato industriale di Milazzo Giammoro e dei pozzi ubicati nel territorio del Comune di Pace del Mela di proprietà del Consorzio Asi di Messina nello stato di fatto in cui si trovano. La causa come detto è stata rinviata alla Camera di Consiglio del 14 settembre 2022.